Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo ai momenti di tensione che si sono registrati di sera al palazzo di città Gela. Alcuni lavoratori ex Tecla hanno minacciato di buttarsi giù dal cornicione dello stabile comunale. Sono stati attimi di concitazione. L'intervento degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco assieme al personale della protezione civile ha consentito di far calmare gli animi. Intanto c'è una schiarita in merito alla vicenda degli alloggi dello IACP occupati abusivamente. Momenti di tensione ieri sera al palazzo di città Gela. Alcuni dei 28 lavoratori ex Tecla non assunti nonostante le clausole del contratto sottoscritto tra azienda ed ente comunale. Hanno minacciato di buttarsi giù dal cornicione. Sono stati attimi di concitazione. L'intervento degli agenti di polizia e dei vigili del fuoco assieme al personale della protezione civile ha consentito di far calmare gli animi. I lavoratori hanno denunciato nuove assunzioni, circa 15 da parte di Tecla, mentre per loro non ci sarebbe spazio. Gli operai avevano protestato prima in aula consigliare durante i lavori del Consiglio. Urla e fischi sono volati alla proposta iniziale del sindaco messinese di accogliere solo una rappresentanza nella sua stanza per affrontare la situazione. O tutti o nessuno, il messaggio dei lavoratori è stato chiaro, così come altrettanto chiare sono state le manifestazioni di protesta. Il sindaco ha confermato che a gennaio, con la scadenza del contratto firmato da Tecla, si dovrebbe provvedere ad una nuova gara d'appalto per i successivi sei mesi, in attesa di poter affidare l'appalto in maniera più stabile con gara ordinaria. Il malcontento, come dicevamo, si è riversato ancora una volta in Consiglio Comunale. Intanto arriva una sospensione degli sfratti in attesa di una ricognizione dello Stato di fatto degli alloggi popolari dello IACP e quanto ha ottenuto il Comune di Gera alla fine di un incontro con il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari dell'ex provincia di Caltanissetta, il prefetto e vari esponenti delle forze dell'ordine. L'amministrazione comunale ha assunto l'impegno di verificare la situazione degli alloggi occupati con lo stato di bisogno dei residenti e la presenza di minori. Lo scopo, ha spiegato il primo cittadino presente alla riunione assieme all'assessore Francesco Salinitro e dal dirigente comunale Orazio Marino, è di giungere ad una soluzione definitiva di una questione che si trascina da decenni. Il sindaco ha comunicato quanto ottenuto ad una delegazione di occupanti che attendeva immediata risposta. Cambiamo argomento, adesso parliamo della decisione assunta dal Consiglio Comunale di Gela, sì all'acqua pubblica. La proposta del passaggio al sistema pubblico di gestione del servizio idrico a Gela, la cui delibera è stata approvata lo scorso 13 novembre dall'amministrazione comunale, è stata assecondata ieri sera dalla Sise Civica. L'esperienza della privatizzazione dell'acqua, si legge nella delibera, ha dimostrato come solo la proprietà pubblica ed il governo pubblico e partecipato dalle comunità locali garantiscano la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti ed il rispetto degli equilibri maturati per le generazioni future. Il capogruppo del Partito Democratico, Enzo Cirignotta. L'aggiunta valuterà il percorso per uscire dal lato idrico e quindi per ritornare ad una gestione pubblica e diretta dell'acqua in forma singola oppure associata. Il Consiglio Comunale ha espresso una posizione forte, eravamo in 17 e ritengo che su questa vicenda non si può più tornare indietro e il percorso per passare alla gestione diretta e pubblica dell'acqua, così come ci chiedono i nostri concittadini, ormai è tracciato. E cosa vorrà dire? Che Caltacqua non gestirà più il servizio idrico a Gela? Questa delibera era necessaria per avviare un percorso. È chiaro che si tratta di fare riferimento ad una legge che è stata impugnata dal Governo nazionale. aspettiamo l'impugnativa del Governo nazionale, dopodiché quando avremo il quadro legislativo più chiaro, perché in questo momento è incerto, l'amministrazione comunale insieme al Consiglio Comunale valuterà il passaggio all'acqua pubblica. È chiaro che il percorso non è breve perché ci muoviamo in un quadro legislativo molto incerto, però come dicevo prima, la via, il percorso è irreversibile. Ma ci saranno anche delle penalità da pagare considerato che c'era un contratto con Caltacqua? No, questa è una facoltà prevista alla legge. Durante i lavori del Consiglio Comunale di Risera è stato approvato un atto di indirizzo che chiede alla Giunta di verificare se effettivamente esistono tutte le condizioni per la gestione pubblica del servizio idrico. Il Consiglio Comunale per rafforzare ancora di più la posizione del cliente comune in merito alla gestione pubblica dell'acqua è quello di dare mandato all'amministrazione comunale di valutare e verificare se ci sono le condizioni per una risoluzione anticipata del contratto visti numerosi disservizi che Caltacqua ha fatto partire alla cittadinanza. Acqua non potabile, acqua a singhiozzo e pagata a caro prezzo. Un dato politico importante che è giusto che la cittadinanza lo sappia. È stata votata questa delibera da 17 consiglieri comunali e c'era l'assenza in aula sia di tre consiglieri comunali dei grillini sia di due consiglieri comunali vicinissimi all'avvocato greco di un'altra Gela che ha fatto in questi anni tantissime battaglie per quanto riguarda la gestione dell'acqua pubblica. Questo è un dato importante, la delibera è passata grazie al voto importante e compatto del consigliere comunale del centro-sinistra. Agricoltura e turismo, prospettive di sviluppo del comprensorio è il tema dell'incontro promosso dal Partito Democratico di Gela previsto per domani alle 10 al Cineteatro Antidoto di Macchitella saranno presenti gli assessori regionali Antonello Cracolici ed Antony Barbagallo il deputato gelese Giuseppe Arancio, il segretario provinciale Giuseppe Gallè il presidente del consiglio comunale Alessandracia ed il capogruppo consigliare Enzo Cirignotta chiuderà i lavori il segretario regionale del PD Fausto Raciti sono previsti interventi delle forze sociali, sindacali ed ordini professionali. La pagina della cronaca giudiziaria un pregiudicato gelese di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima si tratta di Carmelo, Vella, panettiere durante uno servizio di controllo del territorio i militari hanno fermato l'uomo a bordo di un mezzo adibito alla vendita di gastronomia da sporto Vella, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato colto alla guida del mezzo senza patente perché revocata e ora dedichiamoci alla vicenda gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Giunta Messinese oggi parla il sindaco il giudizio non è positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della Giunta Messinese ritenendo le attività troppe volte non coincidente con i principi programmatici del Movimento stesso ed i due giorni fa la presa di posizione da parte del gruppo consigliare Grillino che in una nota sottolinea inoltre che volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città e ritenendo il lavoro della Giunta non coincidente con l'orientamento programmatico il gruppo prende le distanze dall'azione fino alla svolta dalla Giunta e chiede al sindaco e agli assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto espresso nel programma elettorale oggi il sindaco dice la sua è chiaro che noi siamo stati presi in questo periodo da tutta una serie di attività e giustamente sono stati forse non comprese determinate azioni perché giustamente ci sono in determinati tempi non c'è nulla quindi essendo che l'amministrazione operato per il bene della collettività sicuramente sarà un disguido che si potrà chiarire tranquillamente ma non si poteva chiarire anche prima questo disguido invece di ricorrere comunicati stampa ma questa è una scelta loro ritorno a ripetere sono persone intelligenti e stanno come lavorare per il bene della città quindi quando l'obiettivo è comune sicuramente il problema non esistono ma c'è condivisione tra lei la sua Giunta e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle? ma noi abbiamo un programma che abbiamo sostenuto tutti quanti insieme che è quello che stiamo perseguendo naturalmente ritorno a ripetere che l'attività che sta facendo questa amministrazione è abbastanza intensa non ha i tempi di una normale amministrazione dove i formalismi dove le sedute dove magari si discute parecchio ma magari si concretizza poco non fa parte del DNA di questo tipo di Giunta di questa Giunta quindi magari questo tipo di comunicazione è mancata ma fra le altre cose continuando che parliamo del Movimento 5 Stelle mi rendo conto che il dialogo non può avvenire anche in altri modi perché si può tranquillamente in chat o per altre vie che i mezzi moderni ci possono dare non c'è nemmeno questo quindi non ho ben capito per quale motivo tranne che il problema è quello di interfacciarsi con il sindaco e vogliono che io vada a chiamarli per ogni volta ma questo qui ritorno a ripetere è un problema più loro che mio perché io non ho problemi di parlare con nessuno e come ogni venerdì torna questa sera l'appuntamento con Agora il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione ideato e condotto da Franco Gallo punterà i suoi riflettori proprio sui tormenti interni al Movimento 5 Stelle Giolese tormenti che hanno portato il gruppo consigliare Pentastellato a prendere decisamente le distanze dalla giunta retta dal sindaco grillino Domenico Messinese una presa di posizione forte che potrebbe aprire scenari finora inesplorati nel panorama politico locale assieme al conduttore ne parleranno in studio ospiti che fanno parte della giunta 5 Stelle e consiglieri comunali dello stesso movimento che invece che appoggiare il sindaco da loro proposto è fatto eleggere ne contestano buona parte delle scelte fatte finora appuntamento dunque a questa sera alle 21 su canale 10 per una nuova interessante puntata di Agora ore 11.30 di ieri scatta l'allarme di sicurezza per la presenza di un ordigno a bordo della motocisterna Iblea fortunatamente si trattava solo di una esercitazione di security portuale coordinata dalla capitolaria di Porto di Gela lo scenario dell'esercitazione prevedeva la presenza di un presunto ordigno sulla motocisterna ormeggiata al puntile di Levante intenta a caricare 25.000 tonnellate di crude oil ricevuta la segnalazione del presunto ordigno da parte del comando di bordo la capitolaria di Porto ha allertato Prefettura, Polizia, Carabinieri Guardia di Finanza e i servizi portuali la nave è stata evacuata mentre sono stati allertati i mezzi nautici portuali per eventuali incendi o recupero naufraghi in caso di esplosione l'esercitazione che ha dato ottimi risultati ha visto anche l'intervento degli artificeri della Polizia di Stato che si sono recati a bordo simulando il ritrovamento ed il disinnesco dell'ordigno è stata anche simulata la presenza a bordo di un secondo ordigno a quel punto è stato richiesto l'intervento di una unità cinofila della Polizia è stato il Labrador Asso nonostante i forti odori di zolfo presenti a bordo a causa del crude oil ad individuare il falso ordigno posizionato a poppa cambiamo il argomento il presidente dell'area sud provincia di Caltanissetta della Confesercenti Roccopardo assieme al direttore dell'area centro-meridionale della Sicilia Massimo Giudice al consulente finanziario Danilo Giordano e al responsabile del settore alimentare dell'area sud Vito Faraci su delega del presidente regionale Vittorio Messina hanno incontrato il presidente della regione Rosario Crocetta si è parlato della grave crisi e delle opportunità di lavoro e di sviluppo dell'area sud in particolar modo si è parlato di turismo sentiamo Roccopardo Roccopardo è stato produttivo l'incontro avuto col presidente della regione Rosario Crocetta col quale si è parlato prevalentemente di turismo a Gela ma sicuramente il presidente della regione la qualità del istituzionale penso che porterà un po' di beneficio nel territorio gelese abbiamo parlato sia di turismo su Gela ma anche abbiamo parlato di infrastrutture abbiamo parlato di opportunità che il territorio gelese dell'Interland di Gela potrebbe avere potrebbe avere io mi sono fatto carico assieme al presidente regionale Vittorio Messina il dottor Vittorio Messina ci siamo fatti carico per coinvolgere anche tutte le altre sigle sindacali e fare alcune richieste alcune richieste alla regione siciliana il presidente della regione ci ha fatto molto piacere ha messo a disposizione tutta la parte tecnica regionale per far sì di creare una serie di incontri per cercare di ottenere qualche obiettivo il raggiungimento di qualche obiettivo quali sono le richieste che voi avete avanzato? noi abbiamo un litorale di 18 chilometri di spiaggia una delle cose che abbiamo detto ma questo riguarderà tutto in ambito siciliano la possibilità di lavorare tutto l'anno e sfruttare le nostre spiagge un'altra cosa che abbiamo chiesto è la possibilità di creare nel nel sito archeologico c'è una scuola che è stata la stanno ristrutturando perché no una parte di quella scuola visto che pochi bambini ci sono destinarla al museo e quindi realizzare un museo del mare con tutti i crismi e collegare il Bosco Vittorio il Bosco Vittorio con il museo grazie a questa struttura e queste risposte concrete da parte della regione quando arriveranno quando si potrà realmente parlare di turismo in maniera effettiva guarda noi non abbiamo chiesto una tempistica celere immediata abbiamo chiesto semplicemente che i burocrati regionali siano a nostra disposizione per aiutarci a a a a striminzire i tempi quindi perché quello che oggi l'imprenditoria ha bisogno è di avere tempi certi quindi noi cercheremo di avere tempi certi grazie alla collaborazione con i burocrati regionali riepriamo la pagina della cronaca nera un nuovo incendio di auto si è registrato la scorsa notte a Gela intorno alle 3 è stata presa di mira una utilitaria parcheggiata in via Cicerone nella rione caposoprano il mezzo è di proprietà di un 65enne separato e disoccupato sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia il rogo sarebbe di origine dolosa e si è verificato nei pressi di un supermarket le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'aria ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci la seconda parte del telegiornale la dignità del reo e del suo inserimento è il titolo del convegno che si svolge da Gela verrà di 27 novembre dalle 15.30 presso il palazzo di giustizia e sabato 28 novembre e dalle 9.30 presso l'aula magna del liceo classico Eschilo gli incontri sono stati organizzati dal Lions Club di Gela presieduto dall'avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume dell'avvocato Giovanni Maria Flick elogio della dignità confine fra il possibile e l'impossibile si tratta del tema della conferenza promossa dalla Rotary Club Gela presieduto da Gualtiero Cataldo prevista per domenica 22 novembre alle 10.30 nei locali del Cineteatro Antidodo di Macchitella relazionerà Francesco Daina referente distrittuale per l'area Nissena nel corso dell'iniziativa sarà presentato il libro Un angelo con una la sola di Giacomo Domenico Bellina sarà presente l'editore Alfio Grasso prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo spettacolo 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 andrà in scena domani alle 20.30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wiz di Charlie Small che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola Casa della Misericordia fino a domani la spesa per chi è povero Un unico vero potere servire gli altri nella solidarietà è il tema del nuovo anno sociale 2015-2016 dell'Associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo preseduta da Andrea Cassisi l'apertura ufficiale si terrà domani alle 19 con una celebrazione eucaristica preseduta dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana presso la parrocchia San Rocco Alla Santa Messa presenzieranno tra gli altri autorità civili e religiose gli iscritti e i soci del centro culturale Il Soroptimist Club di Gele in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaul al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può giovare a chi intende intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione il corso si svolgerà a Gera dal 23 al 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presse il museo del cinema che sorge nei locali del palazzo Pignatelli Al via l'ottantunesima stagione concertistica giolese con la musica classica e lirica organizzata dall'associazione Amici della musica Navarra diretta dal maestro Crociviso Ragona il concerto inaugurale della stagione si darà in occasione della festa di Santa Cecilia l'appuntamento è previsto per domenica 22 novembre alle 19 presso il palazzo Pignatelli con il mezzo soprano Giuliana Consiglio e Angelo Zarbo al pianoforte parliamo di sport è prevista per domenica 29 novembre prossimo a Gela la seconda maratonina del golf ottava prova del Grand Prix regionale è prevista la partecipazione di ben 700 atleti tra cui il campione del mondo Francesco Ingargiola l'iniziativa porta la firma dell'atletica Gela preseduta da Luigi Morselli noi l'abbiamo sentito Luigi Morselli allora possiamo definirla quella di domenica 29 novembre una vera e propria giornata dedicata a Gela e dedicata allo sport una giornata di festa Sicuramente la prossima domenica il 29 novembre Gela sarà la capitale dell'atletica leggera in Sicilia in quanto chiuderà l'annata agonistica delle maratonine infatti noi stiamo organizzando la seconda maratonina del golfo valida come ottava grova del Grand Prix regionale di maratonine quindi ripeto quest'anno Gela sarà avrà l'onore di chiudere l'annata agonistica la manifestazione che avrà inizio alle 10 di mattina con la partenza dalla villetta di Macchitella con un percorso che sarà simile a quello dell'anno scorso che si snoterà per un po' tutto Viale Corti Maggiore fino all'ingrocio di Via Fontana Rossa quindi lasceremo libero quel tratto che va da Viale Enrico Mattei fino all'ingresso di Via Fontana Rossa per far defluire il traffico meglio dal lato opposto l'altro giro di Boa sarà più o meno alla Borsellino ed è prevista la partecipazione di 700-800 atleti come dati tecnici agonistici come organizzatore vediamo almeno 700 atleti provenienti da tutta la Sicilia quindi avremo più forti atleti regionali ma non solo ad oggi abbiamo un bel 10% di iscrizioni da tutte le restanti regioni siciliane italiane abbiamo gente di Milano di Ravenna di Como di Belluno quindi per noi ma non solo come noi Atletica Gela ma per la città di Gela sarà un bel biglietto di visita perché l'atletica rispetto agli sport più importanti per esempio il calcio che arriva non so il Mila arriva solo una città qui arriva gente da tutte le parti d'Italia quindi è una bella vetrina per la nostra città e cerchiamo di accoglierli al meglio ed è prevista anche la partecipazione del campione del mondo Francesco Ingargiola come atleti più importanti avremo sicuramente un nome su tutti Francesco Ingargiola un nostro amico di Mazzara del Valo che è stato campione del mondo militare di Maratona è stato quindi dagli europei di Gothenburg e tutt'oggi detiene la sesta migliore prestazione italiana di Maratona di sempre con 2,08 se pensiamo che a New York hanno vinto con 2,11 pensiamo un po' per quanto riguarda poi i dati tecnici per chi potrà vincere la gara ci sarà di nuovo Davide Ragusa che ha vinto la prima edizione anche lui è stato campione italiano di Maratonine a livello femminile la nostra amica pure di Mazzarino Giussichiolo per quanto riguarda la nostra associazione avremo alla partenza più o meno 30 atleti a livello femminile chi potrà lottare per il podio saranno Ilva Cigarelli e Laura Granvillano che anche lei lotterà non solo per il podio ma alle prime 8-10 posizioni in assoluto a livello maschile otterranno per il podio Damiano Dandurella Filippo Cimecca e Angelo Mentola E con lo sport e in particolar modo con l'altretica noi chiudiamo l'informazione di oggi ricordandovi che notizie e servizi possono essere consultati attraverso il nostro portale tg10.it e vi ricordiamo ancora una volta che il televideo di Canale 10 è costantemente aggiornato abbiamo concluso grazie e arrivederci a presto